Vabbè, postazioni Anche perché sono finiti Postazioni ne vediamo poche Vediamo il giusto A meno che non ci stanno i video E per carità, bravi Sono due cose fighe Cosa non sono fighe? Le postazioni con le monster Non sono fighe per un cazzo Per niente E questa cosa adesso la posso dire anche con più fierezza La postazione con Francesco Totti È una gran po' La postazione che stai guardando La stream in questo momento è un'altra grande postazione Ma vedo un grutta Vedo un grutta Ancora non hai detto ai tuoi che ti piacciono Lo stesso tipo di persone del tuo genere Dai, fatti forza my man Questo che ti fa? Una mano del gauscio da sotto al tavolo? Mentre si guarda delle sdrogo corse? Ma vaffanculo te che c'hai l'Xbox Porco Dio, ma dove stai? Nello scantinato di qualche serial killer americano Bella Non vende astronavi il sito trendim Non vende astronavi, Manu Peccato che non so il nome di Double Vip Bravissimo La postazione del K dopo un mese e mezzo nella casa nuova Allora Mi fermo su quelle Allora è di Game of Thrones E quindi in realtà mi dovrebbe far cagare Che hit Molto bella Goffo, goffo Questa non è tua Il go Bo Questa, questa Una postazione Interessante Brutta come la fame Il suo porco Ma sembra Sembra un Un pack opening Di Giacidale Come hai messo le cose sulla scrivania Cristo santo Mamma mia Mamma mia Frate Ma quanto porco Dio mi dispiace Io ti auguro veramente di far tutti i soldi del mondo Ma tu lo sai che ovviamente non eri voluto dalla famiglia Cioè lo sai sì Che la Cioè tu Tu in forma di sborra Non è Perché se poi t'hanno messo in una cameretta del genere C'è qualcosa che non quadra Cioè Per non colorare il muro di verde Ti hanno preso una roba con dentro il verde Cioè ricordatevi sempre Se avete roba verde dentro la camera messa dai vostri genitori Vi vogliono male Non vi hanno mai voluto In realtà Cioè No 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 Il verde zio porco No è vero Mamma mia Questo 7000 cose De 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 Più e più volte per averti Guarda che bel muro che t'hanno fatto Oh un bel video Mi piacciono i video La prossima volta li dobbiamo fa video Ma perché c'è mitico Sheck Nella pod Scusate ragazzi Sul discord non puoi vedere i video Mi dispiace Ma che coglione Ad aver creduto una cosa del genere Se ce l'avevo di un altro colore E poi l'hanno colorata di verde Cosa vuol dire Ti stanno provando a vendere a un mercato nero probabilmente Niente regà Non lo posso vedere Non va a sto video Non so che cosa dire Mamma mia Cioè ma perché Perché reddit e discord Fanno sempre così caca Altro video Ah oggi non vanno i video Oggi non vanno i video su discord Oggi non c'è un video che va Dai guarda quanti video Ma mi piace Vedi i video delle postazioni Li devi scaricare Non li scarico Mi dispiace Anche sapendo che non c'è modo di ficcarci cose strane Non lo scarico Dove si comprano i bambini? Non lo so Non lo so Ma tutte postazioni Questo si è fatta la postazione in bagno 100 gigabyte No 600 giga in download 150 in upload Non carica Cioè sta crashando discord Cioè tu mi stai a dire Che io mercoledì faccio reddit E il mercoledì reddit Crash E è in down E quando faccio Quando alle volte guardo discord Crash a discord Ah beh È sicuramente interessante Come cosa Cioè ogni foto per caricare Ah no questa invece no Questa si poteva caricare In tre secondi Questa Ma cosa adesso si è ripreso Quindi magari tu mi stai dicendo Che si vedono anche dei Ehi Dei video Addirittura No Oh ma scherzavo Ma che sei scemo Stavo scherzando Porco dio Non sanno fare un'applicazione decente comunque Terribile Ma comunque oggi tutte belle Una marea di led vedo Led rossi Blu Azzurri Viola Molto viola Belli viola Vedo anche queste cose Alle volte vedo anche un robo per guidare Ma le persone non nascono Già imparate Eh regà Vuoi o non vuoi Dario Moccia Dario Moccia Che ti osserva Dal nulla Scrivania verde Scrivania verde È un affronto proprio Cioè scrivania verde Il genitore ti ha detto Senti Tuzzi abbiamo addirittura provato Ad ingoiarti Ma dopo non esserti riuscita Ad ingoiare Sei slipperato per sbaglio Nell'infiga di tua madre Cioè se no Non è spiegabile Questa c'è la cosa Del Napoli Attaccato Con la roba di Surri Attaccata alla porta Carina Non c'ha manco Xbox Era molto da Xbox Questa cosa Queste addirittura Sono loro che videogiocano Facendo un birillo Grande birillo Questo gioca a GTA E nel mentre ti era aperto Il maestro Te vuoi malissimo Cioè dove guardi Guardi o vedi un gioco di merda O vedi un gioco di merda Pazzesco anche quello Ti faccio i miei complimenti Oh questa carina In manzarda Questa Con la postazione De lollo lacustre Molto carina Molto carina Ricordate di rispettare Le donne Ovviamente Che casa hai Zì Ma che è Ma stai dentro A un robo Tipo di quelli Dove ci stanno Le catacombe In Francia Ma che è No ma sì Questa è palesemente Voluta Tutta questa roba Sono quelle È un bunker Frate ma è una hit È tipo un gigastudio Alla Surri Che manata Avrei bisogno Di un dollaro Comunque Avrò bisogno Di un dollaro Mi sembravano poche Dai Ervito Ecco pure questo Cioè l'unico video Che va su discord È un video Di una merda Di postazione Del cazzo Stai Stai a reggina Cieli Stai Dai Zio porco E mollarti Ne posso manco più Ritrovare Perché stanno Troppo in fondo Mamma mia Ma che fa Ma che è Scorreggi Parco Dio Amianto Ma che è Ti c'è cascato L'aspartame Dago Cazzero Ma che schifo Eh Eh Postazione Troppo bella Mi dispiace Tu non puoi essere visto Vabbè Non si capisce Uno con Rocco Siffredi Meglio Rocco Siffredi Che il cazzo Oppure se un po' entra Devi decidere Se fa vedere La cappella O le palle Se c'è un cazzo De Rocco Siffredi A schermo Postazione Non ho idea Di come tu riesca A giocare Così distante Dalla tv È una cosa Orribile da dire Ma è vera Nel senso Non ci possiamo Nascondere Dietro un dito Questo Non si vede Un'altra volta Allora La pastina Beh Tutte carine Comunque oggi Niente di brutto Mamma mia Il calendario Del signore Degli anelli Ma Il calendario Del signore Degli anelli Ma frate Te probabilmente Pensi che i figli Porta la cicogna Il calendario Del signore Degli anelli Porco Ma è figa Ma Guarda Assaggiami un pugno Se ti va Guarda Quella più bella Così Lì per lì Forse Questa Carina Pure questa Bellina In realtà oggi Vasi Avete giocato Tutti bene Puoi essere visto Come video No Niente Non si vedono i video Guarda quanti video Vedete Mood Bella Lius avvicina C'era un altro video I pupazzi Ma quanto è grossa Sta stanza Frate Ma sono due stanze Non è sempre la stessa stanza Ma ne avevo visto i pupazzi Prima Sì ma perché alcune Se vedono i video E altre volte Non si possono vedere video Che è sta cosa Questo c'è rpc Uscito fuori da Nipe train dorato Un altro video Che ovviamente Non si può vedere Un'altra postazione Con fortnite Tutte con fortnite Palesemente fake Ruba No non è vero Questa è real Questo corcoso Del heineken È la postazione Più bella di oggi E a mezzanotte e due Dopo aver trovato La postazione migliore Con la scritta Led Del heineken Si può andare A vedere Qualcosina Un'altra postazione migliore Un'altra postazione migliore Un'altra postazione migliore Un'altra postazione migliore Con fort implementazione migliore Di